Un'ottima prestazione, la tua. Ti ritieni soddisfatto di questa partita? Visto il risultato, sì. Potevamo fare meglio sotto il punto di vista del gioco, però il campo non aiuta. Il campo qua non aiuta, è un campo difficile e i campi brutti ci penalizzano. In casa non riusciamo a giocare il bel calcio che spriviamo a ore di allenamenti. 16 punti, che potevano essere forse qualcosina di più. Pensavate di essere così in alto oggi? Io sinceramente non lo pensavo. Dopo i primi giorni che sono venuto qua non ero positivo, sono sincero. Poi grazie al mister che esprime molta sicurezza, dà molta garanzia. Quando dice una cosa si vede che è molto convinto di quello che dice. Quindi di conseguenza bisogna solo seguirlo perché è un mister esperto. E niente, quindi noi di conseguenza dobbiamo seguirlo, andare avanti e continuare così. E' migliorato tanto l'affichiatamento con i compagni nelle ultime partite? Sì, sì, tanto. Continuando così possiamo solo che stupire perché 10 di fila adesso non siamo più una sorpresa. Adesso siamo noi che vogliamo dare continuità, vogliamo dimostrare che vogliamo sognare. Diamola così. Grazie.